Incredibile, in quest'ora la camera, nel pieno della crisi di governo, con la maggioranza che è saltata, questi vogliono fare il banale DL-Covid. Sono qua con l'onorevole Donzelli, siamo inquietati da questo fatto, sono dei marziani fuori dal mondo che ci fanno discutere del DL-Covid come se nulla fosse successo. Cosa abbiamo chiesto Giovanni? È intervenuto l'allobrigito, il nostro capogruppo ha chiesto una capigruppo immediata, cioè fondamentalmente si riunisca alla Camera per decidere un programma dignitoso. Questi oggi vorrebbero farci discutere con la conversione in legge del decreto legge sulle restrizioni di Natale, già passate, mentre stanotte hanno fatto un nuovo decreto legge. Così ci vogliono tenere a perdere tempo invece di ufficializzare che questo governo non c'è più. Ecco, noi abbiamo banalmente chiesto con il nostro capogruppo che si faccia subito una capogruppo e ci dicono se esiste ancora una maggioranza, come lavorare, e non ci facciamo votare gli emendamenti al DL-Natale, sono dei marziani. In questo momento una sola cosa, è molto semplice, contro la ringra in aula, si dimette, sarà il Quirinale e si convoca l'elezione. Così forse gli italiani avranno un governo dignitoso, è l'unica soluzione che serve all'Italia. Probabilmente però è una strada troppo lineare, è la strada che abbiamo sempre chiesto noi, brutti, sporchi, sovranisti, cattivi, con un piccolo preso, quello di voler riconsegnare al popolo italiano il suo destino, dato che chi oggi ce l'ha in mano ha fallito e ormai è certificato che abbia fallito. Ciao a tutti, vi terremo in corrente. Ciao, buona giornata.